Domenica 22 dicembre, festa per Santa Barbara al distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Gazzaniga. E come ogni anno è anche l'occasione per tirare le somme. Quali i numeri del 2019? Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto, a oggi siamo a 358 interventi, 10 in più dell'anno scorso, diversificati come tutti gli interventi dall'apertura porta, soccorsi, persona, incidenti stradali, allagamenti e così. Siamo contenti particolarmente per il discorso degli incendi tetto che, a seguito di una sensibilizzazione delle persone, probabilmente hanno avuto cura di manutendere le loro canne fumarie e così, e quindi non ci sono stati gli incendi a ora che c'erano stati l'anno scorso. Ricordiamo anche quanti sono i Vigili del Fuoco volontari di questo distaccamento. Sì, a oggi sono 29 unità. Per fortuna ne sono entrati 6 nell'anno 2019, tutti giovani, spero con la voglia di fare. È un bel numero. Piccolo problema che su 29 unità solo 13 riescono a coprire i turni di giorno. Perché noi facendo anche a 24 ci troviamo che di giorno, come tutti i distaccamenti, c'è una certa carenza. Cioè tu per avere 5 unità disponibili devi trovare quelli che fanno le squadre, chi ha la disponibilità e così. Per cui la notte non ci sono problemi da sera, dopo le 5 e mezzo. Di giorno ci sono abbastanza problemi. Cerchiamo da fare il possibile. Tant'è che, se guardo anche qui, siamo andati a spendere comunque per gli interventi 2.510 ore quest'anno. E quindi va bene, una quota a parte di cui tutti hanno dato. Non guardiamo quelle che comunque noi stiamo qui e non veniamo chiamati, ma copriamo l'H24. Quelle lì non le nomino, sennò sarebbero tante. A gennaio andremo a fare un... andranno altre 6 unità a fare un corso. Per cui se va tutto bene il corso così dovrei aumentare ancora di 6 unità. Sperando da riuscire a coprire sempre maggiormente l'H24. Ma inteso più che altro la quota di giorno. Perché di sera ci siamo. Il problema che c'hanno un po' tutti i distaccamenti è di giorno. Dopo è vero, lo dico perché poi visto che è una telepubblica. Arrivano qui dei ragazzi a chiedermi vorrei fare il pompiere. Sì, ok, va bene perché ci vedono tutti come gli eroi. Cioè, pubblicità mediatica vedono tutti i pompieri. E tanti vorrebbero fare domanda. Non è proprio così semplice perché i più tanti di questi ragazzi di fatti non sono... non sanno come gira la storia qui dell'H24. Loro vengono e ti dicono Ah, no, pensavo da fare il sabato e la domenica la sera. No, non è così magari. No, devi coprire l'H24. E dato che poi noi qui come distaccamento siamo al centro della media valle, noi con i nostri mezzi di supporto che abbiamo anche, l'autobotte, l'autoscala, i boschivi, copriamo e andiamo ad aiutare i colleghi di Clusone, Clusone o l'overe che sia. Ma spesso ultimamente con la carenza che c'è in centrale di unità ci chiamano anche verso, diciamo, la Bergamo. Per cui capisci che ci devi essere, punto. Quindi domenica la festa di Santa Barbara, tra l'altro quest'anno a ridosso del Natale e c'è anche un presepe allestito qui al distaccamento. Sì, quel presepe qui spettacolare, a detta di tutti, l'ha costruito Alessandro Pagetti, che è un DOS nazionale degli AIB, e quindi ci ha omaggiato di questa capanna. Chi vorrà venire giù con i bambini a vedere i mezzi e se ne approfitta a vedere anche questo presepe automatizzato, domenica dalle 10 e mezzo in avanti.